Non serve arrivare ad una abrogazione della legge sull'aborto, ci sono tanti modi per negare questo diritto alle donne, pensiamo a quello che è accaduto in Italia con ad esempio l'inserimento dei provita, degli ultra reazionari nei consultori o con il fatto che la pillola in certe regioni governate dalla destra non si trova, è impossibile, o che ci sono solo medici obiettori e le donne devono migrare con costi altissimi in altre regioni. Dunque ci sono tanti modi per negare questo diritto e Trump, proprio sotto la presidenza Trump, la Corte Suprema con dei giudici nominati da Trump ha appunto annullato un diritto che dal 1973 esisteva in tutti gli Stati Uniti. Dunque la destra ogni volta che ha il potere la prima cosa che fa è togli i diritti e sicuramente Trump continuerà questa sua azione di discriminazione nei confronti dei diritti delle donne e nei confronti dei diritti della comunità, ad esempio LGBTQI+. Dunque noi siamo molto preoccupati perché questa avanzata delle destre ha come primo obiettivo quello di togliere i diritti delle persone per rendere la democrazia più precaria, più instabile, perché senza diritti non c'è democrazia. Allora questa è la cosa su cui noi dobbiamo vigilare, dobbiamo continuare a fare opposizione, perché Trump è stato legittimamente eletto, nessuno mette in discussione questo, però insomma si sa benissimo qual è il suo programma sul tema dei diritti.